Editoriale Cicerone se girasse per le strade di Siracusa oggi si ricrederebbe. Siracusa ha sfattato ormai da alcuni illustri il detto città babba con città svergognata, scriverebbe oggi lo scrittore e filosofo romano Marco Tullio Cicerone, se girasse per le strade dell'ex capitale della Magna Grecia. Sebbene il reato più antico del mondo spopoli in tutta Italia Siracusa sia tra le prime, 37esimo posto in classifica Istat 2022, le contrade di Siracusa sembrano particolarmente appetibili a ladri e ladruncoli che nel 2022 hanno messo a segno 6.312 tra furti aggravati, borseggi, furti d'auto e nelle auto, in esercizi pubblici o in abitazione, facendola franca praticamente sempre, una città in peda al caos, con buona pace degli aumenti di pena minacciate o dispensate periodicamente da una politica miope e che non vede che quando i ladri finiscono in carcere ne escono specializzati nel furto, ma soprattutto strabica perché non vede proprio il dato più vistoso e c'è che nel 95% dei casi i ladri restano ignoti alle forze dell'ordine e alla giustizia. Le dose ulteriori di carcere sbandierate come medicina salvifica dell'insicurezza urbana restano dunque sulla carta e non hanno nemmeno un effetto deterrente poiché mentre la generalità dei reati è in diminuzione, i furti aumentano quasi ovunque. Eppure in questa direzione va anche la riforma del processo penale, che la prossima settimana riprenderà il suo cammino al Senato, con una delle poche norme approvate dalla Camera quasi all'unanimità. Gli aumenti di pena per i reati di strada sono una costante della politica giudiziaria e della sicurezza quando la cronaca o le statistiche riportano in primo piano la microcriminalità. Misure con una forte carica simbolica ma con una scarsa efficacia e concreta poiché non trovano riscontro nella vita quotidiana dei cittadini ingannati o illusi da slogan bugiardi come quello della tolleranza zero. Una città svergognata. I stragusani forse vivono una frustrazione che può portare alla rassegnazione, al fatalismo e quindi all'immobilismo, secondo quanto riferisce la classifica Istat 2022 sul sole 24 ore, è una delle più colpite dalla criminalità predatoria o di strada. Adesso i dati raccolti dal sole in alcune procure dove confluiscono le denunce di tutte le forze dell'ordine confermano in particolare che il furto aggravato è la piaga principale della sicurezza urbana. Il rischio che si recusa possa smarrire l'attrattiva accoglienza accreditata negli anni si dirà che il proliferare della micro criminalità di strada è il prezzo da pagare per avere più sicurezza su altri fronti della criminalità che impegnano le forze dell'ordine visto che le risorse sono limitate. Che è insomma una precisa strategia della politica della sicurezza. Spesso poi le forze dell'ordine si lamentano con la magistratura, noi li arrestiamo e loro li scarcerano, ripetono. I magistrati però se la prendono con un legislatore schizofrenico e ondivoco che a seconda delle emergenze del momento allarga o riduce il ricorso alla custodia cautelare che ha limitato l'uso delle manette. C'è del vero anche in questo, se non fosse che nella stragrande maggioranza dei casi i furti denunciati restano di autore ignoto e dunque il problema delle manette neppure si pone. E' invece certo quello che non si deve fare e cioè continuare con la schizofrenia legislativa degli aumenti di pena che non servono a niente. Secondo l'ultima classifica Istat 2022 sul solo 24 ore consumo di sostanze stupefacenti a Siracusa è in costante aumento, si trova in dodicesima posizione con 284 denunce per produzione e traffico al quattordicesimo posto. Addirittura per spaccio e si classifica al nono posto in classifica con 202 denunce su 106 città. Pensare che Siracusa è una città di drogati fa rabbrividire via nella pelle d'oca eppure sta aumentando sempre di più il consumo di droga tra i giovani, come abbiamo riportato nell'editoriale inchiesta del 17 settembre scorso. Se ne è parlato sempre nell'ambito della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza durante la discussione sulle dipendenze tra i teenager. Non si tratta solo di oppiaci ma anche di eroina, benzo, di azipine e di altre sostanze che vengono mescolate con l'alcol o con gli psicofarmaci. In effetti in questa fascia d'età sembra molto diffuso anche il cosiddetto policonsumo. Droghe, bevande alcoliche, tabacco e così via. Il problema è che non esiste un vero e proprio sistema di prevenzione e spesso i genitori non si accorgono nemmeno che i figli stanno facendo uso di stupefacenti. Al giorno d'oggi le sostanze stupefacenti costano di meno e sono reperibili anche sul web, soprattutto da quando è iniziata la pandemia e le attività online hanno preso maggiormente piede. I giovani trascorrono ore e ore su internet e acquistano, in men che non si dica, la droga a poco prezzo. Quella tra i giovani e la droga è una combinazione allarmante. Le tendenze stanno favorendo lo sviluppo della tossicodipendenza prima dei 19 anni e pochissimi adolescenti si recano nei centri di recupero di loro spontanea volontà. Molti sono lasciati a loro stessi, le loro condizioni non sono monitorate, il che rappresenta un terreno fertile per la dipendenza. La voce delle forze dell'ordine mette sì l'accento sulle risorse, ma anche sulla sicurezza partecipata e sulla percezione di insicurezza. E' chiaro però che occorre la collaborazione dei cittadini, le denunce, i primi alleati della polizia, le sentinelle, e questo vale anche per i furti, sebbene siano reati che si consumano in modo veloce. Ovviamente ci sono delle priorità di cui tener conto prima di intervenire sul posto, però molto ci sta da fare anche sul fronte dell'insicurezza percepita. Quanto alla collaborazione dei cittadini, ovvero alla sicurezza partecipata, le segnalazioni sono importanti ma vanno potenziati anche i sistemi di difesa passiva, come le videocamere.